Salve a tutti cari amici, bentornati in compagnia del vostro Wertz, bentornati in compagnia di EvoSmart.it Ragazzi, dopo circa, io credo, 15 anni di Wind 3, oggi, nonché H3G, quindi la 3 prima, finalmente è arrivato il momento di cambiare operatore. Wertz, ma perché cambi operatore dopo 15 anni, o meglio, ma perché ti sei deciso oggi di magari passare a un altro gestore? Ragazzi, vi racconto tutto in questo video, è un video che secondo me può servire a molti, proprio perché vi racconto la mia esperienza, non è un video sponsorizzato assolutamente, sono proprio io andato a comprare la sim e quant'altro. Mi raccomando, se anche questa tipologia di video, quindi magari i video sugli operatori, quali sono le migliori offerte, quali sono le migliori compagnie in ambito copertura e quant'altro, vi piace, ragazzi, lo sapete, qua sotto andate a schiacciare un bel like, condividete il video stesso e iscrivetevi al nostro canale YouTube per continuare a seguirmi in questa nuova avventura. Detto questo, ragazzi, quale operatore avrò scelto? Vi attendo qua sotto nel box dei commenti. Ovviamente voi già avete magari indovinato qual è l'operatore che ho scelto, perché mi seguite su Instagram, at Wertz86, negli scorsi giorni vi ho raccontato la mia storia. Praticamente io mi sono svegliato la mattina, ho aperto il mio saldo in banca e mi sono ritrovato a meno 170 euro. Preso dal panico, ma cosa cacchio avrò comprato per aver speso meno 170 euro, mi sono ricordato che era l'ultima rata, o meglio la maxi rata, sull'iPhone X, contratto 30 mesi di due anni e mezzo fa, finito oramai con la 3 da circa due mesi. Quindi mi è arrivata l'ultima rata, giustamente, però non me lo ricordavo, e allora mi sono informato, quindi ho chiamato il gestore, ho detto ciao, mi è scalduto l'abbonamento, quanto pago adesso, visto che comunque la mia tariffa era giga infiniti, minuti infiniti, sms infiniti più la rata del telefono, 40 euro mensili. L'operatore mi ha detto guarda, ti rimane 40 euro, quindi non cala pur avendo finito il telefono. Se vuoi, puoi variare con noi la tariffa e ti proponiamo praticamente la stessa tariffa a 10 euro o meno, quindi a 30 euro. Lì per Dio onestamente mi sono fatto due conti, giga infiniti una volta ne avevo la necessità, perché non avendo un ufficio, perché comunque non avendo la wifi a casa, avevo bisogno di tanti giga. Il tethering, il dovere uploadare il video su YouTube, il dover comunque anche giocare con un ping altissimo, però ci si poteva fare, allora mi sono detto ad oggi non è più così. Perché? Perché in ufficio il wifi, a casa il wifi, quindi giga, la necessità di avere tanti giga non esiste più. E allora mi sono guardato intorno, mi sono detto intanto non voglio più una tariffa che mi vincola 30 mesi, perché il telefono oramai non mi serve più. Due anni e mezzo fa io non avevo, tutti questi telefoni che vedete alle spalle non avevo niente, e quindi per portarvi una recensione ad esempio di un iPhone dovevo acquistare il telefono, come o lo paghi subito o lo compri usato o lo prendi in abbonamento. In questo caso vedete cambiano le cose, ad esempio adesso il mio iPhone 11 Pro Max arriva da Trend Device, me l'hanno lasciato incomodato d'uso un anno e quindi io posso utilizzare tranquillamente il telefono, quindi insomma non ho più la necessità di un abbonamento. Allora mi sono incominciato a guardare intorno, oramai Wind 3 è un'unica famiglia, quindi ho escluso sia Wind che 3, volevo cambiare, volevo passare a un'altra avventura, volevo passare a un altro gestore proprio per iniziare un po' a guardare anche come lavorano gli altri, ne ho abituato comunque dopo tanti anni a Wind 3, ho voluto insomma cambiare. Di Team non mi sono piaciute le offerte, di Vodafone assolutamente non farò mai più Vodafone, da quando, dall'oggi al domani mi sono ritrovato aumentato 4 euro alla tariffa base, prima avevo una SIM Vodafone per testare i telefoni senza neanche un preavviso, quindi Vodafone per me a prescindere è fallita, cioè può regalarvi tutto, può essere il migliore operatore sulla Terra, ma per il mio caso, sto parlando di me stesso, non va bene. Ho incominciato a guardarmi gli operatori virtuali, secondo me il migliore forse ad oggi è O-Mobile, questo perché? Perché si appoggia sulle reti Vodafone, come vi ho detto mai più Vodafone, ma so intelligentemente che la rete Vodafone è ottima, però l'avere la limitazione, e vi dico che ad oggi è una limitazione tra virgolette, perché comunque un upload di 30 mega basta e avanza, però ecco proprio la parola ti limito nella mia mente oggi non ci deve essere, perché devo sentirmi libero, questo è un mio fatto personale. Allora mi son detto, forse il migliore operatore ad oggi, visto comunque anche il futuro, è Iliad. Iliad con l'offerta che ho fatto, quindi minuti limitati, SMS limitati, 50 giga di internet senza limiti, quindi io non ho limiti di upload, 7,99€ al mese. Sono andato al chioschino, io lo chiamo così, insomma il totem, la macchinetta, ho fatto la sim, ho fatto la portabilità, ho speso mi pare 10 euro di sim più la prima mensilità, quindi 7,99€, ho pagato con la mia PostPay, automaticamente si sono salvati i dati della PostPay per scalarmi 7,99€, perché io provenendo da un abbonamento dove non dovevo ricaricare, il dover pensare che domani mi scade la tariffa, devo ricaricare, per me è no, no, perché mentalmente non me lo ricordo, e quindi la comodità anche di questa cosa, che non vi vincola assolutamente, è stata davvero un'ottima scelta. Portabilità effettuata in due giorni, da Wind 3 a Iliad, senza nessun tipo di problema. C'è stata un po' di confusione, soprattutto da Instagram, Guertz, ma perché hai scelto Iliad che non ha il 5G? Questa cosa non è vera, perché Iliad nel 2018 si è già giudicata delle reti 5G, sono già state testate a Torino, a Milano, a Venezia, a Bari, a Roma e a Bologna, solo non sono ancora attive, ma sono già pronte. A Firenze tanto il 5G è praticamente un miraggio, ad oggi non mi interessa, ad oggi mi interessa un buon 4G+, ieri sono stato a Firenze, 120-130 MB in download, 50-60 MB in upload, qua in ufficio prende bene, 4G+, 50-60 MB in down, una trentina in up. È una rete che al momento funziona bene, al day one comprai subito una sim Iliad, era qualcosa di imbarazzante, ma hanno lavorato, hanno lavorato bene, sono cambiate tante cose. C'è da dire una cosa, e questo l'ho notato nel tragitto casa-lavoro, e quando siamo in centro città, quindi siamo in una zona comunque coperta, non avete nessun tipo di problema. Quando uscite, magari ecco, Wind 3 può avere una tacchina di 4G, lì con Iliad invece andiamo in H. In alcune zone Iliad si appoggia all'infrastruttura tramite ponti, Wind 3, quindi la rete è la solita, Nii, non è proprio vero. Però ecco, devo dire ragazzi, per 7,99€, onestamente, minuti limitati, 50GB, possibilità di navigare all'estero, mi pare intorno ai 5GB, ora non vi vorrei dire una cavolata, però comunque è una rete che mi permette davvero di far tutto, e al momento mi sento di consigliarvela. La cosa fondamentale che vi consiglio è questa. Prima di passare il vostro numero, fatevi una sim, quindi spendete quei 10€ di sim, 7,99€ di offerta, provate un po' la rete, fate gli speedtest, guardate come va la rete in generale nelle vostre zone, e solo allora magari fate la portabilità. Questo è quello che vi consiglio io. Come sempre ragazzi, vi attendo qua sotto nel box dei commenti, perché voglio sapere la vostra opinione in merito all'operatore che avete, come vi trovate, se vi trovate bene, male, insomma, parliamo un po' anche di queste cose, perché è bello avere il telefono, ma poi ci mettiamo dentro la sim e ci dobbiamo telefonare. Come sempre, anche per quest'oggi, il Vonguerza ovviamente vi ringrazia, vi saluta e ci vediamo domani per un nuovo video. Ciao a tutti ragazzi!